Da quanto tempo che non ci vediamo? Beh ovviamente un periodo di offerte, siamo tutti in fibrillazione Festa che di fatto anticipa il Black Friday, festa delle offerte Amazon Ho selezionato come di consueto i migliori televisori da non farsi scappare durante questa giornata di promozioni Ce ne sono un po', si parte da 149€, arriviamo a 2349€ Quindi ho cercato di accontentare come al mio solito la maggior parte di voi Perché capisco bene che le esigenze siano molto diverse e il televisore è anche qualcosa di abbastanza soggettivo E non solo oggettivo, caratteristiche tecniche, qualità di visione Ognuno ha la sua preferenza, diagonali eccetera Sul mio canale trovate tante guide, tante recensioni per cui se volete approfondire andate a curiosare Ma come al solito link in descrizione per andare alla pagina della mia vetrina Amazon Con tutti i prodotti che ho elencato potrebbero aggiungersene Se noto magari qualche offerta davvero succulenta, la aggiungo Il tempo è sempre poco per cui ci può essere qualche modifica in corso d'opera Però prima di continuare iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto E attivate la campanellina delle notifiche In quanto è davvero l'unico modo che avete per supportare il mio lavoro Iniziamo proprio con quello base, base, base che è il TCL SF540 Un TV da 32 pollici che però ha caratteristiche interessanti In quanto ha la nuova Fire TV OS Quindi un sistema operativo basato sì su Android Ma compatibile quindi con la maggior parte delle applicazioni Molto veloce, molto fluido Non è un sistema operativo che sovraccarica tanto il processore Quindi anche un televisore di fascia molto bassa 149€ rispetto ai 169€ Ovvero sono solo 20€ di sconto Però 149€ avete un televisore a 32 pollici Magari da mettere in cameretta Da mettere in uno studio Da usare come monitor Da usare nella casa in montagna In campagna Quello che volete E ha risoluzione full HD Una cosa ancora oggi purtroppo rara da trovare Quindi ve lo metto lì Secondo me è una di quelle televisori Uno di quegli acquisti Anche un po' di impeto Che potrebbe comunque soddisfarvi anche nel lungo periodo Facciamo un balzo quantico a 429€ Con una televisore da 43 pollici In questo caso è il Samsung Q64D Quindi un modello 2024 Un modello di ultima generazione C'è il sistema operativo Tizen Abbiamo la risoluzione 4K E soprattutto la tecnologia QLED A mio modo di vedere Oggi non vale assolutamente la pena Acquistare un televisore Magari a 300, 350, 400 euro Senza questa tecnologia Perché di fatto State buttando i soldi Potendo avere accesso Magari per 30 euro in più Ad una tecnologia QLED Non ha senso Spenderne magari 380 Per avere un pannello LCD Normale che a oggi fa abbastanza pietà Sia a livello di qualità cromatica Sia a livello di esperienza Totale di visione Con Samsung avete poi un sistema operativo Anche in questo caso Molto fluido Molto piacevole da utilizzare E quindi ve lo consiglio Senz'altro Anche perché lo sconto Anche in questo caso Non è da strapparsi i capelli Ma sono comunque 30 euro di sconto Che male non fanno Passiamo all'LG Nano Celle Serie 81 Anche questa serie del 2024 474 euro Anziché 499 euro Un buon 25 euro di sconto Che anche in questo caso Non fanno assolutamente male In questo caso abbiamo Il sistema operativo LG WebOS 24 E LG ha dato garanzia Di aggiornare comunque sui televisori Anche alle release successive Quindi sotto questo punto di vista Chapeau perché non sono tutti I produttori di televisori A fare questo passo Dopodiché passiamo ai 749 euro Per fare un bel balzo avanti Sto parlando del TCL 65 QM8B In questo caso passiamo Alla tecnologia Mini LED E anche in questo caso Vi raccomando Se ormai spendiamo più di 600 euro Non vale la pena prendere un QLED normale Prendete il Mini LED In questo caso TCL la fa da padrona Sotto questo punto di vista Però a 65 pollici A 750 euro Sì avete uno sconto di soli 50 euro Non sono comunque pochi Nel giorno d'oggi Però avete un televisore 4K 144 Hz Tecnologia Mini LED HDMI 2.1 Di fatto potete guardarci tv Giocare Fare tantissimo Tutto quello che si fa con una tv È un sistema operativo Google TV Che rispetto ai primi modelli TCL Ha fatto passi da gigante Offre un'esperienza davvero Molto molto valida Tra l'altro vi segnalo Che non c'è solo la versione Da 65 pollici sconto Ma anche quella da 55 Quindi magari se volete risparmiare Quelle 100 euro Potete scendere in diagonale Molto dipende dalla distanza di visione C'è un video Proprio su questo argomento Sul mio canale Andatevelo a recuperare Dopodiché passiamo all'OLED Anche in questo caso C'è sempre una editriba Meglio OLED Meglio Mini LED La risposta è sempre Dipende È ovvio però Che se iniziamo a salire Di prezzo e fascia Non vi consiglio Di spendere 3000 euro Su Mini LED Nel momento attuale Poi magari tra due anni La tecnologia Mini LED Fa quella svolta Quel qui di in più Per cui magari varrà la pena In questo momento È ovvio che Se dobbiamo spendere 2000 euro Vi consiglierei Tutta la vita Un OLED Un QD OLED Detto questo però A 949 euro Con uno sconto di 50 euro Troviamo L'LG OLED C4 Quindi versione 2024 Da 42 pollici Attenzione Non è l'OLED Evo Non è il migliore OLED Sul mercato Ma è l'OLED Di ultima generazione Più economico Che possiamo acquistare In più Abbiamo La qualità Di un top di gamma In una diagonale Compatta da 42 pollici Che possiamo installare Non dico ovunque Però nella maggior parte Degli spazi A mio modo di vedere È una bella offerta Che valuterei Se dovesse acquistare Un OLED È ovvio che Magari spendere 1000 euro Per un 42 pollici Può sembrare tanto Ma come sempre Vi ricordo Quando andiamo Possiamo acquistare un televisore Non compriamo solo La grandezza Ma tutto ciò Che c'è all'interno Del televisore È come valutare Una macchina Solamente per la grandezza E non per il motore Per i sedili Per il comfort Per l'infotainment Per i materiali utilizzati E tanto altro È ovvio Che a quel punto Le macchine migliori Dovrebbero essere i camper Sappiamo bene Che non è così Facciamo un altro salto quantico Perché comunque La serie C4 È tutta in offerta Quindi ho selezionato La 42 pollici Perché secondo me È quella sotto i 1000 euro E quindi comunque È succulenta Però Anche le varianti A 55 e 65 pollici Sono in offerta Non andrei Troppo distante Dal C4 Detto questo Passiamo All'S94C In questo caso È un televisore Del 2023 Di Samsung Però Con tecnologia OLED Però è un televisore Che udite udite Ha una diagonale Da ben 77 pollici Lo sconto È di circa 100 euro 1999 euro Il prezzo precedente 1899 euro Il prezzo attuale È comunque Un signor OLED Come oserei dire 4K 144 Hz Per quanto riguarda La frequenza di aggiornamento Sistema audio al top Qualità visiva al top C'è Bixby C'è Alexa C'è Tizen Insomma abbiamo tutto ciò Che si può desiderare È un televisore Grande Molto grande Per chi desidera Effettivamente Creare una sala Cinema Sotto i 2000 euro A questo punto Arriviamo all'ultimo Ovvero L'LG OLED Evo Serie G4 In questo caso Lo sconto è di circa 150 euro Quindi comunque Uno sconto secondo me Corposo Per quanto riguarda La 65 pollici Perché costa così tanto Il G4 Rispetto a tutti gli altri Televissori che abbiamo visto Adesso Perché ha il pannello MLA Di seconda generazione Un pannello A micro lenti Che è in grado Di raggiungere Picchi di oltre 2000 nizi Luminosità Che quindi Nelle scene HDR Riesce a dare Un boost Davvero Davvero Eccezionale Se volete La migliore esperienza Oggi possibile Avete due scelte O l'LG OLED G4 Oppure il Panasonic Z95A Che abbiamo provato Qui sul canale La settimana Scorsa Tuttavia Quest'anno Forse LG ha un piccolo Leggero Vantaggio Essendo suo Il sistema E non avendo Avuto grossi Cambiamenti Nel sistema Operativo E riuscite Forse Ottimizzare Un pelino Meglio Questo G4 E soprattutto Lo pagate Di fatto 1000 euro In meno Anche qualcosina In più Rispetto a 65 pollici Di Panasonic Per cui A questo punto È vero Che i soldi Sono vostri Ma Io Risparmierei 1200 euro Errotti E anderei Sulle Leggi Senza ombra Di dubbio Che tra l'altro Anche un design Un po' più elegante Un po' più slim E anche più bello Da appendere A parete Per questo video Però è davvero tutto In descrizione Che vi conducono Appunto Al mio profilo Amazon Con tutti i televisori Che ho citato Fate bene La vostra scelta Monitorate i prezzi Sempre con un Monitoratore Di prezzi E per questo video È tutto Ci vediamo con il prossimo Che è un video Un po' più generico Sulle offerte Che più mi hanno convinto Che personalmente Magari qualcosa Acquisto anch'io Quest'anno Ciao 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 Ciao